Nel tema sportivo voglio rimanere per parlare però del tema razzismo perché sapete l'episodio, lo spunto, quello che è accaduto nella partita tra Verona e Brescia qualche giorno fa, protagonista Balotelli che insultato dalla tifoseria a un certo punto ha calciato violentemente una pallonata verso gli spalti interrompendo la partita ne è nato un caso, una discussione, adesso non entriamo nel merito di quanto è accaduto perché è in corso anche un'indagine da parte della giustizia sportiva do il benvenuto a Raffaella Chiodi, membro dell'Unione Italiana dello Sport per Tutti e membro del board della rete Fare che si occupa proprio di come utilizzare il football, il calcio per mitigare questo istinto razzista che c'è probabilmente nella società Chiodo, che cosa ci insegna e che ci mostra quello che è accaduto a Verona? Va detto che la società comunque poi è intervenuta, ha emanato anche un daspo quindi un divieto di accedere poi allo stadio nei confronti di uno dei protagonisti ed è ormai accertato che siano 20-30 persone che hanno insultato Balotelli però che cosa ci dimostra quello che è accaduto? Ma io penso che ci dimostri il fatto che questo è un fenomeno che naturalmente si verifica negli stadi ma è la fotografia di quello che accade in tutta la società non è che lo stadio sia un mondo a parte, è un po' lo specchio della società e quindi infatti noi da tantissimo tempo solleviamo l'attenzione cerchiamo di richiamare tutte le parti in causa a rendersi conto che questo è un fenomeno che per lungo tempo è stato sotto traccia, poi si è manifestato sempre più chiaramente e adesso diciamoci tutto, quello che pensiamo è che ci sia stata anche una forma di sdoganamento di queste forme di espressione La cosa incredibile è che non riguarda soltanto i grandi stadi perché pochi giorni fa un episodio che è avvenuto in provincia di Milano e che ha coinvolto un ragazzino di 10 anni appena che è stato insultato dal genitore della squadra avversaria insomma anche qui se ne è discusso, ecco qui vedete la notizia sul nostro sito è una cosa che comincia dai campetti di calcio di periferia insomma Sì, certamente, è proprio una delle cose che noi ribadiamo, scriviamo e riportiamo ovunque possiamo e cioè che questo fenomeno al di là del caso specifico degli episodi più eclatanti che vengono riportati dai media e che sono appunto negli stadi di serie A sono le cose più preoccupanti quelle che accadono anche nei campetti di periferia noi così li chiamiamo noi siamo un'associazione che si occupa di sport per tutti quindi ci occupiamo, siamo presenti su tutto il territorio sentivamo questo tipo di fenomeno arrivare sempre più appunto alla ribalta il problema è che questa cosa non è che non esistesse prima il razzismo questo lo sappiamo tutti, c'era, magari era sotto traccia oggi quello che accade è che c'è stata una, diciamo, negli ultimi mesi, negli ultimi anni anche una forma di sdoganamento politico molto grave che ha portato al fatto che ci si esprime in modi razzisti senza più nemmeno avere la paura di essere tra l'altro un razzismo che va inteso anche in senso ampio per esempio il caso della Roma è stata combinata una multa per razzismo di tipo territoriale quindi non è soltanto il colore della pelle ma proprio il diverso da me naturalmente, tutte le forme di discriminazione che vengono utilizzate come strumenti di offesa lei ha un osservatorio, quello della rete fare che è un osservatorio privilegiato a livello internazionale com'è la situazione fuori dall'Italia? che cosa fanno altrove? sì, naturalmente questo fenomeno del razzismo come sappiamo non si manifesta soltanto in Italia in Germania, in Polonia, in tanti paesi in Russia e in tantissimi paesi c'è questo tipo di fenomeno e quello che noi facciamo è monitorare e denunciare tutti i casi che si manifestano c'è una forma anche di collaborazione diretta con la UEFA proprio per questo perché abbiamo i nostri operatori che osservano tutti i campionati e tutti i livelli di calcio ufficiale e non ufficiale per poter denunciare in maniera assolutamente attenta e seguendo un criterio molto preciso per poter monitorare la situazione e chiedere poi le specifiche federazioni Voi verificate che ci sia stato un peggioramento negli ultimi tempi? Sicuramente c'è stato un peggioramento ma va di pari passo con quello che accade a livello politico come diceva prima le notizie che sappiamo che vengono dalla Germania anche dalle ultime elezioni insomma sono soltanto uno degli ultimi tasselli di qualcosa che sappiamo benissimo viene sempre più trova una sponda e si nutre reciprocamente la parte politica le forze di estrema destra che vediamo in Germania, in Italia e in altri paesi sono presenti negli stadi sono presenti in questo tipo di fenomeni sono una cosa che purtroppo conosciamo e che evidentemente fino a oggi non ha trovato e questo per noi è fondamentale un fronte unico univoco non ci deve essere nessuno dei livelli dalle istituzioni politiche dalle istituzioni appunto governative dalle istituzioni sportive dalle istituzioni dai club da tutti i livelli compresi i genitori nei campetti di periferia nessuno deve offrire una sponda una giustificazione che poi attraverso la minimizzazione si manifesta di episodi di razzismo e questo è il punto cioè se non c'è questo fronte univoco ci sarà sempre qualcuno che si sente autorizzato a essere razzista grazie allora grazie a Raffaella Chiodo della WISP l'Unione Italiana Sport per Tutti grazie anche per il lavoro che fate con l'associazione anche a livello europeo per insomma poi alla fine fare una battaglia di civiltà soprattutto a livello sociale in tutta Europa grazie ancora ci proviamo tutto l'anno tutto l'anno con tante manifestazioni in casi clamorosi come questo allora grazie no come mondiali antirazzisti e tante altre cose